Tempo di rinnovamento in casa Vittoria Alata. La scuola di volo con sede a Comezzano Cizzago, presso l'aviosuperficio Santa Lucia, dallo scorso dicembre possiede una rinnovata struttura organizzativa. Dopo oltre 20 anni di insegnamento, l'istruttore Davide Turelli ha ceduto il testimone direttivo a Luca Fratini, ex pilota militare, istruttore su tornado e pilota commerciale su B777. Il nuovo direttore, affiancato da Daniele Sternini, istruttore VDS e di aviazione generale e ATPL Frozen, resident della scuola e responsabile della sicurezza. Un team che si completa con Stefano Patacca già presente nello staff. L'obiettivo della scuola resta sempre uno solo, crescere nuovi piloti VDS, ma con un'offerta formativa sempre più ampia. La scuola ha una tradizione ventennale. Un allievo si può iscrivere qui quando vuole, perché noi la teoria la facciamo a rotazione. Abbiamo introdotto delle procedure che chiamo brevemente long briefing e sono praticamente delle lezioni, delle piccole lezioni, che l'allievo deve sentire, seguire, studiare, in modo tale che nel momento in cui va in volo già le prime volte è pronto e sa che cosa deve fare e questo ci permette di avere un ritmo di apprendimento del pilota molto molto più elevato rispetto a quello di dover imparare tutto in volo. Quello che è successo da quando è nato il VDS ad oggi è stato molto molto importante perché di fatto siamo partiti da aeroplani a tubi e tele. Adesso abbiamo aeroplani che viaggiano tranquillamente a oltre 200 km all'ora con motori da 100 cavalli, in composito con una strumentazione interna che è molto molto all'avanguardia. Il passaggio da, passatemi il termine, da figli di un dio minore a essere fratelli seduti tutti allo stesso tavolo dipende esclusivamente da noi, dipende da quanto seriamente vogliamo, da quanto seriamente ci prepariamo, da quanto seriamente rispettiamo le regole. E se questa cosa viene fatta da ognuno di noi nel proprio piccolo giornalmente ogni volta che stacca le ruote è probabile che nel breve periodo la percezione di quello che avviene nel mondo dell'ultra leggero cambi. E una volta che è cambiata allora si incomincia a creare una struttura che diventa sempre più seria e sempre più simile a quello che è l'aviazione generale. Tra gli allievi della scuola di volo Vittoria Alata anche il sebino Marco Campagnoni queste le sue prime impressioni. La prima volta, il primo volo effettuato è un gran ricordo, quando ci si alza da terra nella fase di decollo è un'emozione molto particolare e aver la possibilità oggi di essere al comando di questa esperienza mentre piloti tu stesso un aereo mobile è veramente indescrivibile. Grazie a tutti.